un uomo alla ricerca una donna che lo attende chi è? il gioco del destino ha mai baciato una ragazza cieca della quale neppure c'è il nome? da un maestro del cinema italiano un film intenso e prezioso conosciuta Angela? soppe bellissima? soppe particolarissima? soppe speso tutti i risparmi? soppe che vuol dire particolarissima? soppe di che le ha mangiate tutti i sordi è tutta una sceneggiata ma chi volete che se la piglia una così? dove lo trova in un altro fesso come voi? io vorrei che Santa Lucia la facesse rimanere così com'è certo se si può io vorrei che se la piglia una così com'è